Dopo il caso dell'infermiera risultata positiva, al Moscati sono iniziati i test rapidi sul personale in servizio nelle aree covid. I primi 40, da ripetere ogni sei giorni, sono stati effettuati e associati al tampone e hanno dato esito negativo. Contestualmente si sta testando anche il personale in servizio nelle unità operative non covid, che sarà controllato una volta al mese. Peraltro, su disposizione della direzione aziendale, la verifica relativa a un eventuale contagio da coronavirus dei dipendenti era già stata avviata da diversi giorni, attraverso l'esecuzione di oltre 200 tamponi sul personale maggiormente esposto al rischio infezione. E la CGL torna a chiedere con forza un protocollo covid in tutte le strutture pubbliche e private della sanità che tuteli i lavoratori irpini. È un interessamento forte anche per quanto riguarda la presenza dei medici generici. C'è stato detto che metteranno in campo dei camper per stare vicino alla popolazione, ma noi vogliamo che in tutti i luoghi di lavoro ci sia la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, soprattutto in questo caso di medici, infermieri, ma anche dei soggetti terziarizzati, cioè delle pulizie delle mense, che davvero hanno bisogno di tamponi, di test rapidi e soprattutto di dispositivi di sicurezza per far bene il loro mestiere e per aiutare tutti quanti noi. Intanto sono arrivate dalla Cina e consegnate alla provincia di Avellino 6.000 mascherine di protezione individuale N95, omologhe delle FFP2, che ha fatto sapere il presidente Biancardi saranno destinate alle associazioni di volontariato sul territorio.